Allora, questa è una, chiamiamola competizione, che si chiama Espresso Italiano Centro e la indetta dell'Istituto Nazionale del Paese Italiano. Il senso di queste gare, che se ne fanno in tutta Italia, è quella di dare sempre più importanza al vostro costiere, al barista. Voi oggi avrete 11 minuti di tempo per preparare 4 espressi e 4 cappuccini, partendo però da un macinatore con una macinatura montanata, sfasata. Per quanto riguarda la preparazione, la preparazione sono 4 espressi all'italiano, 4 cappuccini. Potete fare quello che volete, c'è il senso. Non c'è la regola. Se uno vuol fare un cappuccino decorato, lo può fare. Se uno vuol fare un cappuccino classico, lo può fare. Cambiamo il visitatore. Cambiamo il visitatore. Grazie a tutti.